Il Nursind Salerno esprime profonde preoccupazioni riguardo alla riorganizzazione sanitaria prevista per la Valle del Calore come delineata nella recente presentazione dell'attività organizzativa aziendale dell'AS Salerno. In particolare il sindacato è turbato dalle possibili implicazioni che tali cambiamenti potrebbero avere sulla qualità e l'accessibilità dei servizi sanitari per i cittadini della zona. La nostra attenzione è concentrata sul destino del presidio ospedaliero di Rocca d'Aspide che dovrebbe essere incorporato nel DEA di Vallo della Lucania e Agropoli. Pur riconoscendo l'importanza di potenziare le strutture territoriali sorgono legittime perplessità riguardo alla proposta di riorganizzazione, ha detto il segretario generale del Nursind di Salerno Viaggio Tomasco. La principale preoccupazione riguarda la mancanza prevista di un rianimatore H24 presso il presidio ospedaliero di Rocca d'Aspide, in un'area classificata come disagiata tale figura e di vitale importanza per garantire un pronto intervento nelle situazioni di emergenza. La limitazione della presenza del rianimatore a determinati orari potrebbe costituire un rischio per la sicurezza dei pazienti e un deterrente per l'accesso ai servizi sanitari. Inoltre preoccupa la situazione dell'unità di laboratorio di analisi, il che potrebbe compromettere l'accessibilità e la qualità dei servizi di laboratorio per i pazienti della zona.